Lo stacco e si avvantaggiano subito la Store Guasimo e Orione Trio con Orione che prende l'iniziativa sulla Store per la nera, filtra la seconda fila, almeno ci prova legislatore NEM a centro pista, più veloce del solito, Pilgrim Cash che va a scavalcare Mistral d'Alfa. Intanto Orione Trio approda il paletto dei 200 iniziali in 15-1, alle sue spalle la Store Guasimo e Pilgrim Cash per la nera Grad e Mistral d'Alfa. Ancora legislatore NEM, 400 iniziali in 33 sul mio cronometro. Metà della retta opposta alle tribune, Pilgrim che attacca, Orione che lo controlla i due sempre a precedere la Store Guasimo. Poi ancora Mistral d'Alfa che può parcheggiare allo steccato, un po' in difficoltà infatti per la nera Grad che perde qualche battuta. E intanto è completata anche la seconda curva, il Pilgrim ha potuto sistemarsi nella scia del Battistrada-Orione Trio, la Store Guasimo in terza posizione. Al largo nuovamente Mistral d'Alfa, ora in terza ruota c'è il tentativo di Okema. Intanto il chilometro in 1.16 e mezzo, terza ruota anche per Pirata OM, quando si va all'imbocco della penultima curva. In seconda pariglia esterna, nella scia di Mistral d'Alfa c'è invece Nadira. Il secondo chilometro per Orione Trio inizia con un paletto in 15-3, a ridosso del leader Mistral. All'incorda è Pilgrim Cash, all'argo Nadira, poi Okema. Nadira scavarca Pilgrim Cash ormai stanco e si pone sulle tracce dei primi due. Allo steccato è Orione, all'argo Mistral. Nadira a contatto, gli altri lontani ora capeggiati da Pirata OM. Mancano un po' più di 400 metri al termine. Orione al comando, Mistral all'argo, in corda Nadira, poi cerca di avvicinare i primi anche Pirata OM. Ingresso della retta di arrivo, all'argo di Pirata c'è anche Milton Dante con in chiaro vantaggio Orione Trio che si è svincolato dai rivali. Si stacca al comando, effettivamente la categoria è veramente un'altra. Orione vince facile, 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 davanti a Nadira. Terzo posto per Milton Dante che precede Pirata OM e Mistral d'Alfa. Orione Trio vince dal lontano con Marco Stefani. Training di Walter Castellani, i colori della scuderia Trio, 2,32,2 sul mio cronometro, sarebbe 16,1, ma i primi 100 veloci abbassano un po' la media, che potrebbe essere inferiore all'1,16, 15,7, 15,8, il riferimento più o meno potrebbe essere questo. Il vince da favorito Lione Trio, la quota al totalizzatore è di 1,67. Lione Trio, la quota al totalizzatore è di 1,67.